buongiorno sasha buongiorno hai appena mangiato vero con i semini messi dentro la sacca guanciale e te li sei mangiati dentro la cuccia vero bravo sasha o brava non lo sappiamo se sei maschietto femminuccia non lo sappiamo vero ma noi non importa perché ti abbiamo chiamato sasha che va bene sia per moschio sia per femmina bravo chi sei ambientato vero mi sembri rasserenato vero hai mangiato la la carota la sotto c'è ancora ma è è smezzata quindi te la sei mangiata un pochettino poi qua sotto dietro dietro la ciotola io ti avevo messo dei pezzettini piccoli piccoli di banana di di finocchio e ti è anche un pezzettino piccolo piccolo di formaggio ma non li vedo e che non si vedono che sono caduti proprio dietro dietro secondo me te li sei mangiati pure poi lo vedremo meglio quando ti cambierò il cibo più tardi quindi è andato a casa lo ascia o andata la casetta guarda che bella la casetta ne ha due sasha questa la usa per mangiare a quanto pare e questo la usa per dormire la ruota il tubo niente è rientrato a casa fascia però lo sento muoversi là dentro quindi secondo me si sta sistemando il cibo dentro la casetta va bene va per adesso spegniamo e vediamo più tardi o stasera perché ora fascia va a dormire tutto il giorno vero e poi verso le sei di pomeriggio comincia a cercare il cibo poi si fa colicare di nuovo e poi questa notte speriamo di poterlo vedere all'opera in piena notte tipo verso le due e mezza tre quattro questa notte non ce l'ho fatta a svegliarmi ecco ti ecco ti ecco ti ecco ti ecco ti bravo sasha sei un bellissimo siberiano winter white proprio la mia razza di criceto preferita in assoluto vedo che stai apprezzando anche la segatura ti sta piacendo proprio tanto ci stai giocando e si mette la pasta da una casa all'altra che sei bello quando sei sulle zampine sei bellissimo guarda che pallicciotto bianco e nero quando ti ho preso nemmeno speravo di trovarti così bello vediamo se ti alzi se riesco a vedere se sei maschio la carota la carota la carota guarda la carota si sta mangiando bravo ti piace la carota vero dunque come primo giorno e come prima notte non c'è male hai mangiato una carota pezzettini di finocchio pezzettini di banana un pezzettino di formaggio semine di girasole e stai continuando a mangiare ah e ti ho dato anche una fogliettina di insalatina che è qua insomma l'hai smangiata un poco però non ti è piaciuta molto forse era troppo che sei bello guarda sta mangiando le cose con le zampine anteriori prendendole dalle sacche guarda sta mangiando le cose con le cose con le cose con le cose con le cose molto particolari in cui mi chiama mio padre per la colazione niente questo è sascia nel suo primo mattino in casa mia credo che si sia molto ambientato e che quindi come prima nottata non potesse andare meglio e prossimamente altri video con altre prodezze vero sascia saluta sascia ci vediamo presto grazie